Dopo quasi un mese e mezzo siamo riusciti a conoscere finalmente il volto dell'alchimista Davide Bosolo, un ragazzo veramente educato e con molta tranquillità, ma purtroppo il suo percorso è finito dal peggiore dei modi, infatti come in tanti sanno oggi c'è stata la scelta di Giovanna e lei ha scelto Sammy Hassan. In tanti speravano che scegliesse l'alchimista ma non è stato così, lui al rifiuto di Giovanna comunque si è comportato abbastanza bene ed è stato molto pagato, augurando alla tronista di essere sempre felice, ma però dopo la puntata e c'è dietro le quinte Davide si spoga in lacrime. Il tronista purtroppo in studio è riuscito proprio a stento a parlare perché non riusciva a trattenere le emozioni, però ha spiegato che anche lui nella vita normale si sarebbe comportato proprio come è fatto nel percorso con Giovanna, ha fatto prima conoscere veramente se stesso oltre la sua bellezza, però come vi dicevo prima dietro le quinte ha avuto uno sfogo ed è scompiato in un pianto disperato. Ecco infatti cosa dice Mi fa male che sia andata così, queste sono le parole dell'alchimista, nonostante tutti dicessero che per lei c'era solo lui ho provato a credere che fino alla fine ci sarebbe stato un dopo, quello che ho costruito con lei finisce qui, è un pezzo di cuore che comunque hai dato e che non ti torna indietro, ma ammette anche rifarei tutto. Quindi l'alchimista forse aveva preso una piccola cotta per Giovanna, ma purtroppo il suo cuore è andato dall'altra parte come ben tutti già sapevano. E voi cosa ne pensate invece di Davide? Scrivetemelo nei commenti, forse avrà un'altra chance. In tanti sperano di poterlo vedere a settembre come tronisto o addirittura come tentatore a Tentation Island VIP. Vedremo che futuro ha riservato la De Filippi per lui. Iscrivetevi al mio canale ragazzi, una buona serata.